Assemblea elettiva di Promosserio Gazzaniga, eletto come presidente Maurizio Forchini, vicepresidente Guido Fratta, malumori in assemblea sulle nomine dei consiglieri. Coroidica verso il sessantesimo, i coristi sono già impegnati nella preparazione dell'anniversario in programma nel 2017. 32,80 metri di bontà e tutti a fine di bene la dimensione dello strudel con il quale sono stati raccolti fondi per un elevatore mobile per le piscine di Rovetta. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Molti di voi probabilmente si ricorderanno dell'incendio che nel 2015 ha interessato il Monte Cimiero sopra Clusone. Vladimir Lazzarini ci aggiorna sulla relativa vicenda giudiziaria. Si è conclusa la vicenda giudiziaria conseguente all'incendio che nel marzo del 2015 aveva devastato una cinquantina di ettari di boschi e sterpaglie sul Monte Cimiero sopra Clusone. Le indagini dei carabinieri avevano portato all'individuazione di due giovani del paese denunciati a piede libero. L'accusa di incendio doloso si era poi attenuata in quella di incendio colposo. L'autore materiale del gesto, che era stato individuato grazie alle telecamere, pochi mesi dopo la denuncia aveva scelto di patteggiare ed era stato condannato ad un anno con la sospensione condizionale. L'altro giovane, chiamato in causa dalle dichiarazioni del primo, è comparso ieri davanti al giudice per il processo con il rito abbreviato ed è stato assolto e scagionato dall'accusa. Nel corso delle indagini non sono stati trovati elementi a sostegno della sua chiamata in causa. Entrambi i giovani avevano anche ricevuto l'avviso dal corpo forestale di una possibile sanzione amministrativa di ben un milione di euro. Il tutto, destinato a ridursi nell'importo, era però rimasto sulla carta in attesa dell'esito processuale. Per il giovane che è stato assolto, la sanzione ora dovrà essere annullata. Ultimo atto del rinnovo del CDA di Promoserio, questa mattina a Gazzaniga. Sentiamo. Questa mattina presso la sala donatore di sangue di Gazzaniga sono state effettuate le operazioni di convalida dei consiglieri nominati nei giorni scorsi e si è cercato di individuare la nuova guida dell'Agenzia Turistica della Valle Seriana e Valle di Scalve. I lavori si sono aperti con la relazione del presidente uscente Guido Fratta che ha incassato anche un applauso dei presenti. Al termine diverse persone sono intervenute facendo emergere malumori sull'individuazione di alcune nomine elette come di natura politica. Una volta votati gli eletti si è passati all'individuazione del presidente. Non ha voluto ricandidarsi l'uscente Guido Fratta. L'Assemblea ha chiesto chiarimenti sul significato del proprio voto visto che due consiglieri, Bendotti e Bettineschi, non hanno raccolto la maggioranza dei voti dell'Assemblea odierna. I consiglieri hanno quindi interrotto i lavori e hanno preso tempo per confrontarsi. L'elezione del presidente e del vicepresidente è stata presa dai consiglieri. Sette i votanti non hanno partecipato alle operazioni, due consiglieri non confermati dall'Assemblea. Alla fine si è deciso di leggere come presidente Maurizio Forchini, cinque voti a suo favore e due astenuti e come vicepresidente Guido Fratta, sei voti a favore e un astenuto. Le due nomine contestate sono state rinviate alle assemblee competenti. I nomi, che saranno espressi, potrebbero anche essere gli stessi, verranno convalidati dal consiglio direttivo e torneranno a essere votati dai soci con la prima assemblea utile. Maurizio Forchini è nel CDA di Promoserio, dalla sua Costituzione, in qualità di consigliere rappresentante delle associazioni di categoria. Continuiamo con le interviste al nuovo presidente Maurizio Forchini e al vicepresidente Guido Fratta. Ecco, questa mattina c'è stata la sua elezione a presidente. Innanzitutto, lei era già all'interno del CDA di Promoserio? Sì, io sono stato tra i fondatori, i membri fondatori di Promoserio già sei anni fa e sono sempre stato all'interno del CDA di Promoserio come rappresentante delle associazioni di categoria. Ecco, sa già come potrebbe cambiare con la sua presidenza Promoserio? Diciamo che non è pensabile un cambiamento radicale, visto che buona parte delle azioni che sono state fatte in questi anni sono frutto anche del mio lavoro, del lavoro che abbiamo condiviso con Guido Fratta, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro fatto e anche l'auspicio che possa lavorare ancora con noi per i prossimi anni. Come cambierà? Sicuramente cercheremo di renderla ancora più solida, ancora più stabile. Oggi è una macchina importante, è un organismo fondamentale per la valle seriana e quindi ha bisogno anche di avere una struttura organizzativa e amministrativa che la preservi da problemi, tensioni e problematiche varie di tipo proprio anche amministrativo. Ricordiamo che è un'associazione. Non sarà facile il suo mandato, visto che oggi è nato un po' anche in un clima dove ci sono state alcune contestazioni? No, non sarà facile certamente, come non è facile comunque oggi lavorare sulla valorizzazione dei territori, perché i territori, la valle seriana ha tante anime, ha tante aziende, è una realtà straordinaria. Non sarà facile, ma ripeto, ovviamente con un altro stile, con un altro modo di agire, però io mi auguro che il consiglio di amministrazione, ripeto ancora e anche guido, mi aiuti e ci aiutiamo tutti insieme per trovare il bene degli abitanti della valle seriana. Innanzitutto Fratta non ha voluto più ricandidarsi? Sì, avevo già valutato con il consiglio di amministrazione nel corso delle ultime sedute la mia decisione di non proseguire nella carica di presidente. Ritengo che sia opportuno comunque che ci sia un ricambio presidenziale che non significa un abbandono ovviamente dell'attività che si svolge per conto di promo serio, ma dare l'infa nuova. È stata una soluzione fondamentalmente di continuità per quanto riguarda il consiglio, perché il dottor Forchini è con noi da ormai tre mandati, questo è il terzo mandato, quindi ha seguito il nostro lavoro fin da principio. Io, certo l'assemblea di oggi è stata un po' complessa. Però ha avuto anche qualche soddisfazione? Sì, devo dire che questo plebiscito, se così possiamo definirlo nel voto come consigliere, mi fa particolarmente onore, ma non tanto per la mia persona che conta relativamente, quanto probabilmente come premio al lavoro e alla fatica che ci si è messa, ve lo assicuro e stancabile in tutti questi sei lunghi anni di lavoro all'interno di promo serio. Il gruppo di azione locale GAL che riunisce due precedenti GAL, quello della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, ha un nuovo presidente, Alex Borlini, ex assessore al sociale del Comune di Gorno. Sì, il gruppo di azione locale GAL che riunisce i due GAL precedentemente costituiti, il GAL Valle Seriana e del Guattro dei Laghi, ha un nuovo presidente, Alex Borlini, a cui auguro in bocca al lupo e auguro in bocca al lupo anche a tutto il CDA del nuovo GAL. Un GAL che si amplia sia a livello territoriale, in quanto i comuni facenti parte del nostro GAL sono 56. Un GAL che avrà parecchio da lavorare per bandire e preparare i bandi per gestire le risorse del PSR che Regione Lombardia ci ha consegnato, circa 7 milioni di euro da investire sul nostro territorio. È un lavoro difficile ma interessante, costruttivo, quindi auguro ad Alex ancora un in bocca al lupo. Spero che la Regione Lombardia in questo senso ci aiuti soprattutto a uscire da questo impasse che si è creato, perché purtroppo ci sono questioni burocratiche che devono essere risolte. Quindi mi auguro che con l'inizio dell'anno questa situazione venga risolta e il CDA del GAL insieme al direttore possano procedere con un lavoro proficuo. Sono risorse che arrivano sul nostro territorio, devono essere impegnate ovviamente nell'ambito rurale, dove parteciperanno però anche tanti privati e questo connubio tra privato e pubblico può portare veramente un interessante investimento sul nostro territorio. Innanzitutto Borlini, questo incarico cosa rappresenta? È un incarico che la presidenza del GAL Valle Seriane dei Laghi Bergamaschi che opera su un territorio di 56 comuni che viene suddiviso su due comunità montane, la comunità montana Valle Seriana e la comunità montana dei Laghi Bergamaschi. Sono presidente di un consiglio di amministrazione, ringrazio i miei compagni di viaggio, consiglieri di amministrazione, il vicepresidente Luigi Bettoli, i consiglieri Cinzia Varonchelli, Renzo Girelli e il segretario Carlo Belotti, perché stiamo operando già in questi due mesi di attività come GAL e stiamo gestendo un po' questo clima di incertezza e di instabilità. Un clima di incertezza e di instabilità che viene un po' dai ricorsi che attualmente ci sono al TAR per quanto riguarda la graduatoria e l'approvazione degli statuti. Noi possiamo dire che ci troviamo in una condizione attualmente abbastanza favorevole e positiva perché ripercorrendo un po' quello che è stato il percorso a inizio anno sono stati presentati ben 16 progetti di PSL, quindi 16 progetti di GAL a Regione Lombardia. Di questi 16 Regione Lombardia ne ha finanziati 10 con una graduatoria che è uscita ad agosto. Successivamente poi i territori prescelti, questi 10, sono organizzati per costituire questi GAL. Noi siamo all'interno dei 10 selezionati. Costituiti i GAL c'è stata la verifica poi degli statuti e degli atti costitutivi da parte di Regione e di quei 10 che sono stati finanziati Regione Lombardia ha dato esito istruttorio positivo solo per 7 e anche noi abbiamo avuto l'esito istruttorio positivo. Quindi, come dire, attualmente ci sono in corso appunto i ricorsi al TAR per quanto riguarda la graduatoria di agosto e ci sono giunte notizie abbastanza ufficiose anche per quanto riguarda il riconoscimento degli atti costitutivi per i GAL a cui è stato dato il Dignego. Quindi questi ricorsi stanno un po' compromettendo l'attività? Sì, l'attività attualmente è rallentata e quindi è intenzione da parte del Consiglio di Amministrazione organizzare per il gennaio 2017 alcuni incontri di animazione sul territorio per tenere viva l'attenzione al territorio affinché possiamo essere operativi possiamo essere operativi sì nel momento in cui i primi bandi dovessero uscire. Oggi fuori dai supermercati tanti volontari tra questi numerosi alpini si sono dati da fare con la colletta alimentare. La giornata non è finita però ormai quasi giunti a sera qual è il bilancio? Il bilancio sembra essere positivo dovremmo riconfermare la raccolta dell'anno scorso e ciò è positivo considerando i tempi anche perché fra l'altro tutto quello che è stato raccolto che serve per le 121 famiglie del nostro territorio per un totale di 456 persone più si raccoglie e meglio è anche perché queste famiglie purtroppo tendono ad aumentare col passare di ogni anno. Possiamo provare già a dare qualche dato almeno relativo intorno alle 17 di oggi? Sì, siamo già sul 60% di quello raccolto l'anno scorso siamo sui 6 mila chili l'anno scorso eravamo sui 7 mila chili in totale l'anno scorso furono raccolti 11 mila chili di derrate alimentari. Scorso l'anno abbiamo visto aumentare anche alcuni generi che esulano dai classici come la pasta e il riso c'è stata ancora una risposta magari di questo tipo? Sì, si capisce ad esempio quando le famiglie sono giovani perché allora c'è un'attenzione proprio per i bambini e la raccolta degli omogenizzati quest'anno ci sembra almeno al momento più alta rispetto a quella dell'anno scorso. La cosa positiva di quest'anno è che sono aumentati significativamente il numero dei volontari abbiamo avuto 95 volontari a cui si sono aggiunti come tutti gli anni i nostri alpini delle varie sezioni dell'Alta Valseriana e fra l'altro quest'anno abbiamo avuto anche alcuni volontari dei profughi presenti sul territorio che sono venuti a darci una mano ad inscatolare i prodotti. In questi centri di smistamento qui in Alta Valle ci sono al lavoro anche questi richiedenti esilo in quanti sono? Esatto, sono due nel centro di smistamento di Clusone e quattro nel centro di smistamento di Ponte Nossa. Quindi stanno dando una mano anche loro? Sì, abbiamo spiegato di che cosa si tratta quindi in che cosa consiste la colletta alimentare loro si sono resi disponibili ad aiutare e sono entusiasti di poter dare una mano. Sono contenti di poter fare questa cosa? Sì, sono molto entusiasti e sono contenti di poter collaborare insieme a dei volontari italiani per l'iniziativa. Ci fermiamo per una breve interruzione tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Nel 2017 il Coro Idica si appresta a festeggiare il suo sessantesimo anno di attività. In questi mesi i coristi, oltre alle normali prove e concerti, sono impegnati nella preparazione dell'anniversario. Cesare Ferrari, siete al lavoro. Il prossimo anno c'è il sessantesimo e adesso c'è da un po' da preparare il tutto. Sì, per la verità è un sessantesimo che effettivamente ha dato tantissimo al Coro Idica. Il rivedere quello che si è fatto in 60 anni. Io sto facendo il libro appunto e sto un po' rimbangando tutte le tournee, tutti i concerti, eccetera. Rivedere il tutto sarebbe da raccontarla per 40 ore. Ha fatto tantissimo. Ha fatto tantissimo e mi meraviglio come abbia fatto in 60 anni a resistere così lungamente con tutte le crisi anche finanziarie, le crisi di cambio di maestro, le crisi di mancanza di elementi. Eppure siamo arrivati a 60 anni con ancora 12 o 13 elementi nuovi. Questa è la più grossa soddisfazione che può avere da 40 anni il segretario e da 20 da presidente. È una cosa meravigliosa. Io resterò sempre... Sarò sempre orgoglioso dei miei coristi. Sarò sempre orgoglioso di quello che hanno fatto e quello che stanno facendo. perché non è facile portare avanti un'istituzione del genere con 32 nazioni toccate, con più di 2400 concerti fatti in Italia e all'estero. Perciò dico qual è il coro che riesce a fare quel popò di concerti. Siamo stati fortunati nel trovare nel maestro Kurdubieski il promotore di questo coro. L'armonizzatore dei canti di questo coro. Perché grande il coro idico è diventato proprio per le armonizzazioni del maestro Kurdubieski. Il concerto era nostro, cioè le canzoni erano nostre, per cui non c'era da copiare da questo o da quello. Erano le canzoni del coro idica. Questo per noi è stato il primo importante successo del coro idica. 60 anni oggi rappresentano per voi non solo un album dei ricordi ma soprattutto tanti successi con tante avventure anche all'estero. Cosa possiamo ricordare? Qual è che potrebbe essere tra le tante cose fatte una presa come esempio? Sono tante. In Messico dove davanti a 15.000 persone non ci lasciavano andare perché dovevamo firmare autografi accompagnati per 22 giorni dalla polizia. in Russia dove abbiamo cantato all'Università San Pietroburgo e l'Ermitage di San Pietroburgo dove l'unico coro entrato si è stato noi. 32,8 metri di bontà e tutti a fin di bene. Parliamo dello strudel che oggi è stato l'ingradiente principale di un pomeriggio all'insegna della beneficenza lungo via San Defendente a Crusone. Una bella festa qui in via San Defendente quest'oggi a Crusone. Sì, guarda, anche il tempo sorride per noi. È stato davvero un dono di questa giornata. È una giornata molto allegra. Siamo tutti contentissimi. Come vedete alle mie spalle si sta preparando questo lungo strudel di 30 metri. Alle 4 misureremo appunto per vedere se Davide Ducci è rimasto con le stesse misure che così aveva promesso e poi inizieremo il taglio. Ricordo che appunto tutto ciò che andiamo a guadagnare quest'oggi il ricavato andrà per l'acquisto di un elevatore mobile da destinare alle piscine di Rovetta. Questo è stato un dono che la consulta di Geoman insomma a tutte le associazioni ha voluto offrire al territorio clusonese e di Rovetta, insomma. Oggi ci sono anche alcune studentesse. Alcune studentesse che stanno svolgendo truccabimbi giochi con i palloncini e un po' di animazione soprattutto per i bambini. È una collaborazione che ormai è il terzo anno che sta funzionando perfettamente con la consulta giovane anche in occasione di Winter Night saremo presenti come lo siamo stati. Voglio ringraziare davvero di cuore l'amministrazione comunale che come sempre accetta tutti i progetti che la consulta dei giovani vuole fare all'interno del proprio territorio. Un ringraziamento a tutti gli sponsor della via di San Defendente che hanno voluto contribuire a questa iniziativa. Quindi grazie di vero cuore grazie a Davide Duce e a tutto il suo staff per questa bellissima preparazione. Continuiamo ora con le previsioni del tempo. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Giornate davvero critiche sono state sul nord Italia specie sul Piemonte e la Lombardia e anche la Liguria. Infatti delle precipitazioni molto intense a causa di una estesa e vasta circolazione e depressionario hanno tenuto davvero in scacco due regioni del nostro territorio. Questo è dovuto proprio a un anticiclone che si è formato proprio sull'est dell'Europa e ha bloccato questa perturbazione che doveva muoversi verso Levante e invece ha insistito per diversi giorni su gran parte del nord-ovest Lombardo. Pensate sono caduti su questo territorio ben 600 mm in sole 48 ore che è l'equivalente di circa la metà delle precipitazioni che cadono in un anno su questo territorio. Fortunatamente l'anticiclone ha deciso di allontanarsi e lasciare il transito a questa perturbazione. Infatti già nella giornata di oggi abbiamo avuto un graduale miglioramento del tempo anche sul nostro territorio orobico con delle schiarite che sono via via avanzate verso ovest sintomo di un graduale miglioramento del tempo su gran parte del nord Italia. Ma cosa accadrà poi all'evoluzione del tempo per la settimana prossima? Vedete come l'anticiclone che si trova posizionato sulle isole britanniche migrerà ovvero si sposterà verso la Scandinavia. Questo favorirà l'ingresso di una bassa pressione proprio vedete in direzione dell'Eust Europa che porterà con sé dell'aria molto fredda quindi ci attendono delle giornate soprattutto a metà settimana prossima con l'arrivo del gelo. Temperature quindi in picchiata sul nostro territorio ma poche precipitazioni se non per qualche sporadica pioggia nel corso della giornata di lunedì. Ma andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani che vede un tempo indeciso miglioramento cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso sul nostro territorio vedete ho indicato poche nuvole al mattino sia nella zona dell'Alta Valle Seriana Val di Scalve e Valle Camonica ho indicato qualche locale a nuvolamento specie al primo mattino nella zona della Medio-Bassa Valle Serana e Lago Odiseo dove potrebbe insistere qualche locale banco di nebbia ma nel corso della giornata abbiamo detto deciso miglioramento del tempo su gran parte del nostro territorio zero termico a 1700 metri di altitudine alla mattina e nel corso della giornata si sposterà a 2500 metri di altitudine quindi sarà una giornata nel complesso anche abbastanza mite ventilazione quasi assente andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana e allora nella giornata di lunedì assisteremo a un graduale peggioramento del tempo arriverà questo fronte freddo questo deciso cambio della circolazione atmosferica che porterà aria fredda direttamente dalla scantinavia quindi arriveranno le nuvole nel corso della giornata in serata non escludiamo qualche isolato piovasco sul nostro territorio e anche delle spruzzate di neve che potrebbero avvenire intorno ai 1000 1200 metri di altitudine ad indicare questa potente eruzione di aria fredda nel corso della giornata di martedì via via saranno le schiarite a interessare il nostro territorio ma si farà sentire davvero il gelo le temperature precipiteranno sul nostro territorio vedete come le minime acclusone in caso di cielo sereno arriveranno anche a meno 4 o meno 5 gradi massime non superiori ai 5-6 gradi quindi decisamente freddo e uno zero termico intorno ai 1000 metri di altitudine quindi 0 gradi nelle ore centrale della giornata nella giornata di martedì a 1000 metri di altitudine quindi farà davvero freddo una sensazione di freddo anche più significativa anche per la presenza di venti forti da est mercoledì giornata ancora fredda in compagnia però del sole temperature molto rigide al mattino con brinate estese sul nostro territorio fino a bassa quota pensate che anche nella città di Bergamo scenderemo sotto gli zero gradi però nel complesso bel tempo giovedì e venerdì invece ribaltone della situazione arrivano venti da nord settentrionali venti di fene le temperature tornano a salire addirittura nella giornata di venerdì fra giovedì e venerdì potremmo toccare di nuovo acclusone 10-12 gradi sopra lo zero proprio per questi intensi venti di fene che porteranno l'aria limpida sul nostro territorio un clima decisamente mite attenzione perché il prossimo fine settimana invece arriverà una nuova eruzione di aria gelida di nuovo dalla Scandinavia che potrebbe di nuovo far precipitare la colonnina di mercurio sul nostro territorio ma con un clima comunque secco e per il meteo è tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2 una breve pausa tra poco torniamo in onda con il telegiornale di Antenna 2 e continuiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle ore 20.10 trasmetteremo Musa TV alle 20.30 il rotocalco alle 20.50 oltre le confine questa settimana Giacomo Ferrari si è occupato delle iniziative della proloco della collina alle 21.45 trasmetteremo Mananobiscom alle 22.10 Salus TV alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.15 il programma musicale Colpa d'Alfredo e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale verrà riproposto anche alle ore 21.30 sul canale al numero 218 per quanto riguarda il canale sportivo sul 628 alle 20.30 trasmetteremo una partita del campionato di bocce di serie A e alle 23 uno speciale sulla corsa pedal di owl sprint ecco l'Almanacco per domenica 27 novembre il sole sorge alle 7.32 e tramonta alle 16.44 il culmine è alle ore 12.8 la durata del giorno è di 9 ore e 12 minuti la luna sorge alle 5.15 e tramonta alle 15.58 la fase lunare la luna è calante ed è visibile al 14% domani la chiesa celebra la prima domenica d'avvento e siamo giunti al termine di questa edizione del nostro telegiornale di Antena 2 vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata e vi ringraziamo